Buonan tago a tutti, mi sono Carlo Nicola Colacino, mi sono instruito prima matematico e fisico. C'è il giorno, mi cominciamo con la mia classe di instruire esperanto. L'esperanto è una lingua che non ha eccezioni e quindi favorisce il pensiero matematico, la matematica infatti non ha eccezioni, quello che io sento dire l'eccezione conferma la regola e in matematica l'eccezione distrugge la regola. E quindi penso che questo sia utile per far acquisire loro anche un modello di pensiero più matematico. E penso che questa è una classe che fa anche cinese, inglese, spagnolo e cinese, l'esperanto possa aiutare, vediamo se favorisce l'apprendimento. Naturalmente questo è semplicemente un antipasto, un assaggio perché il progetto ancora non è passato al Consiglio d'Istituto. Mi auguro che questo venga fatto presto, mi auguro che venga presentato in modo più strutturato e che queste ore così informali, pilote, possano diventare, possano diventare l'anno prossimo una regola di questo istituto. Vieni a Claso, Latria, no, Ciwi, Fraulinoi, tutte ragazze, tutte ragazze. C'era un ragazzo in sull'anno che si è spaventato e si è ritirato. Benissimo. Si è spaventato perché era l'unico ragazzo. Saluto, saluto, buonan taggon al Civi e buonan lernadon. Tu vi sciatas e speranton? Yes, yes, buone. Ile stas, si volemmai, nun pri, la, pri Gerda. Chi o casas, chi o casos, chi o casos al Gerda? No, buone, dankon, cai bonan Gerda Malaperis. Chi o casas, chi o casas. Chi o casas, chi o casas.